Ma sicuramente intanto la decisione del Papa Emerito, perché da oggi sarà Papa Emerito, Benedetto XVI è una decisione che va presa con tutto il rispetto che merita. Io credo che l'atto di Papa Benedetto XVI sia stato un atto allo stesso tempo di grandissimo coraggio, perché rompe veramente ogni genere di ritualità, di liturgia da secoli. E' anche un atto di grandissima umiltà. Io penso che Benedetto XVI sia l'uomo che in questa fase ha dimostrato di aver compreso forse più di ogni altro la potenza di trasformazione che le nostre società stanno vivendo e che vediamo sotto ogni profilo. Il nostro Paese in particolare in questo momento è attraversato da un'onda di cambiamento straordinaria. E quindi ecco dove vedo il grande coraggio e la grande umiltà di questo Papa. Certo, l'atto più emozionante per il mondo in questo momento. A Roma, dove mi trovavo ieri, ho visto quanta attenzione da parte della stampa internazionale. Il Vaticano è praticamente circondato da giornalisti, televisioni che provengono da ogni angolo del mondo. Forse noi non ci rendiamo conto, perché l'abbiamo nel nostro cuore, al centro del nostro Paese, ma veramente questa decisione e tutti gli scenari che si apriranno da questo momento in avanti per quello che riguarda il Vaticano vengono seguiti con un'attenzione davvero spasmodica, totalizzante, con un'emozione straordinaria. Vedremo adesso quello che accadrà, vedremo quali decisioni emergeranno dal conclave. Certo, per tutti noi Papa Benedetto XVI, laici, cattolici, è stato un riferimento spirituale, un riferimento a 360 gradi e quindi sicuramente questo vuoto in questo momento lo sentiamo più che mai, proprio perché non è l'unico vuoto nel quale ci troviamo. Io credo che tutto il senso di quello che avverrà per quello che riguarda la persona di Papa Benedetto XVI sia in questa frase bellissima che hanno riportato tutti i quotidiani, ora sono soltanto un pellegrino. Ecco, in questo c'è già tutta la pianificazione del ruolo che Benedetto XVI intende ritagliare per sé. E l'ho trovato appunto un atto di umiltà straordinaria, davvero insolito, davvero che ci restituisce anche la forza di una chiesa cattolica sicuramente, soprattutto in questi ultimi anni, spesso al centro di critiche, di dubbi, di accuse, il caso Vatilix. Quindi in un momento davvero difficile della sua storia, ecco, questa frase, questa scelta, io davvero la interpreto come un segnale di profonda sensibilità, di profonda attenzione, di profonda consapevolezza della necessità di trasformazione. Secondo tutti i paradigmi che ormai sta investendo sicuramente l'Occidente e il mondo tutto. Ah sì, sarà difficilissimo comprenderlo, lo vedremo, perché è chiaro che ci sono due linee completamente diverse che si dovranno confrontare, come è giusto che sia, come è giusto che sia, proprio per quello che stavamo dicendo, il susseguirsi di due pontificati molto diversi fra loro, prima quello di Giovanni Paolo II, poi di Benedetto XVI, molto diversi e adesso un momento di verifica sicuramente, un momento di confronto che credo quanto mai opportuno, credo quanto mai opportuno proprio perché la Chiesa rimane al centro di ogni riferimento spirituale e non solo spirituale dell'Occidente e, lo ripeto ancora, in un grande momento di trasformazione. Quindi questo conclave veramente sarà quanto di più, sarà veramente un'occasione, un'occasione straordinaria per la Chiesa Cattolica. Io penso che le cose dette sono queste, ripeto, io no, interpreto veramente non come un atto di paura o di prudenza, la Chiesa è sotto attacco da anni ormai, credo che le logiche di questo Papa superino ampiamente una dinamica legata all'immagine o la tenuta dell'immagine della Chiesa, credo che la sua scelta, come ho detto prima, sia dettata da altre ragioni per le quali ho totale rispetto, poi per quello che riguarderà il conclave io ora mi terrei fuori da ipotesi di ogni tipo, sappiamo molto bene quanto sia aperto l'esito di questo conclave, soprattutto di questo in particolare, per cui io ritengo ovviamente che il Cardinale Betori stia facendo un lavoro straordinario e stia esercitando una straordinaria influenza su tutta la nostra regione. Detto questo, noi non dovremmo fare altro che attendere l'esito, ovviamente, delle decisioni di questo conclave.